Oggi vi porto una top di alcuni dei momenti più divertenti nei video di Coscino. Spero di riuscire a far divertire anche voi quanto mi sono divertito io a fare questi video. Non so, penso che qualcuno abbia anche questa perché magari di moto di formaggio potrebbe un attimo a tenersi tipo all'ema del mio canale forse. Forse c'è qualche collegamento che spugge a John. Infatti anche la mappa Ello Chitty era da fare. Ello Chitty sì. Magari formaggio, un coscino, tipo Avatar, Criceto. Criceto non mangio formaggio. Vabbè topo mio. Non è un topo. Vabbè un incrocio. No, la nerezza si avvicina. Come capo eh. La nerezza. Allora, momento di silenzio per favore che vorrei sentire bene cosa dice questo tizio inquietante. Un attimo solo. 3, 2. Ok sì, era Pinkie Pie. Are you ready? Yes, I am ready. Let's go. Ciao a tutti. Sono Rossini. Oggi siamo qui. Oggi siamo qui. Che intro è? Ma hai mai ascoltato la tua intro? Eh, hai ragione. Però che è stato... Bella ragazzi qui. E' quasi inquietante. Dopo prendiamo il massimo. Guardate in faccia Squirtle. Squirtle c'è l'acqua. Ma che cazzo? Ma è inquietantissimo. Guardale. Dov'è? No, ma poi quando muoiono guardate. Non ha una vera e propria faccia. Vabbè, comunque siamo in una fece di stadio. Cioè, non so come chiamarlo. Allora, sì, siamo in un'arena. Tipo, che cazzo ne so. Noi siamo qui a combattere contro i Pokémon. Signori, facciamogli il culo. Eh, prendete Nixon. Signor Presidente, a che round arriviamo? Se cazzo va a terra col cavolo che vi vogliamo. Sia chiaro. Sperando che la Telecom non ci faccia crashare, possiamo arrivare a Rano Centro. Andiamo. Facciamogli il culo. Ti prego. Bravo. Ah, non posso adesso. Perché ci... Ah, ok. No, lo prendo come un sì. Guardalo, guardalo. Non ce ne... Eh, se mi metto sotto... Continuo. Joe, stenditi, Joe. Stenditi, 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 stenditi. Ma vaffanculo, non mi stenderò nemmo nemmai. Ma butto il pulsante per stendere. Aspetta un attimo. Panda, mettiti sopra il zazzo così appena lo riapri. Perché questa è la partita delle Lolli. Scusa. Dai, mettiamoci in posa, mettiamoci in posa. Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Mi si è impallata la play! Ma come si è impallata? Questa è la intro di Goshiro, mi si è impallata la play! Ci sono, ci sono! E salio direi che appena faccio questi... ok sto aprendo Io faccio la cassa allora Si, bravo! Ehi ma c'è una mira di merda Fermi! Ehi ma lo sai che ti pago Guarda Visto? Hai capito il vecchiaccio Oh, vai a cagare Ehi, hai ancora un dente Questo qua Forse non l'avevo preso bene Io resto qua No ma lì puoi andare tranquillo Sì Porco cane Vuoi farti sta strada? Ti aspetto qua così in caso sei da me Tu vai nel punto safe No, no vai nel punto safe Quando sei nel punto safe Casomai poi io, anche se muoio, vengo i rianimi strisciando tipo Vai, ci sono Sei safe Sì, sono safe Non tocco nulla perché su sta mappa non mi posso fidare di nulla mio dio Sento il volume troppo alto Sento il volume troppo alto Let me abbas de volume Eh, questo è veramente l'inglese che vogliamo Sento il volume Raga, io prendo la voglia Ah Ah No, è bellissima È bellissima Ah Mio dio Ma cos'è? La ricarica baggata della regla È normale, non piega la canna quando la ricarica E non la passa soprattutto No No Allora, una l'hai fatta Una l'ho fatta anch'io Quella non la prendiamo Ah, hai punti pure per farne un altro Opposto Che cazzo Ma porco Giuda A parte l'infarto che mi è venuto Lo volevo io quello porco Giuda Eh, lo sapevo Maledizione Eccola Ma che cazzo ha io? Che cazzo ha Ascendiamoci tutti Tutti per terra No, sono patri Ma che cazzo ha Chi sono io? Sei sponchibobo Oh la sponchibobo Riempiamo i bug di George Oh la sponchibobo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No te ma tu Oh cazzo ha Ci siamo? Oddio Siamo tutti e quattro Oh mio dio Cos'è questo bug? Come funziona questa mappa? Come funziona questa mappa? Come funziona questa mappa? Sì perché io ho avuto la brilla Io non riesco a giocare senza vibrazione E non fate pensieri pervertiti Riguardo a questa cosa Perché io senza vibrazione non riesco Infatti neanche Panzer Oh ma cioè ignoratemi Ma lo sai che tu in 28 anni non ho mai Sono morto mi cagate un attimo Sto venendo Sembrava che non esistessi Nel dubbio ne faccio un'altra Guarda così male che vado e non saltate una Finora la sconto Micia non la voglio la Wunderwaffe Io voglio quella che c'ha lui Voglio Io lo dico al gioco Magari me ne sputa un'altra Ma non lo vedo Vendo solo foligine Io me ne scappo Ma perché se ne scappa da me Oh cazzo Nooo Qual'era la legge dei primi 5 round rega Siamo pronti? Vai Ragazzi stasera andremo a... Ma ma voi non state vedendo la mia lobby Io sono cretino Aspetta aspetta Cambio di scena Preparatevi che sicuramente uscirà qualcosa di strano a prescindere E' una cassa della cassa Quando ho detto la prima cassa non intendevo in quel senso Ma va bene Ma buonasera Spongebob Bel manganello Si molto bello De Luca Si può usare in tanti modi Sai Che bella cosa Ok vai Zumba fai la intro Ah ma li stiamo provando davvero a caso Alla fine Io sono stato là Ho sbattuto un po' di angoli Ho sbattuto un po' di angoli E io che sto guardando il tutorial E non li trovo Ma che tutorial Allora è tutto spiegato Ma no Io non lo so Fatality Ma io non lo so Si 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 Mi sa tanto di presa per il culo Ma ecco Bella Oh Io odio Origins Si in realtà anche io odio Origins Ma che cazzo stiamo giocando Origins Stiamo giocando Origins